Il comune di Pordenone dà una mano alle botteghe di quartiere, fuori dal centro città, dal panettiere al macellaio, dal bar al parrucchiere. Il municipio assegna contributi che coprono metà delle spese di chi investe nella propria attività. Un'iniziativa a sostegno dei rioni cittadini, voluta dal sindaco Alessandro Ciriani con l'assessore al commercio Emanuele Loperfido. Noi abbiamo stanziato 100.000 euro per andare incontro a quelle che possono essere le piccole spese o anche le medie spese per mettere a posto un insegna, per rimettere a posto un locale, per cercare di renderlo ancora più attrattivo. I contributi vengono concessi fino all'esaurimento del plafond complessivo di 100.000 euro. Ci sono dei preventivi da presentare per dire questo è il mio tenore di spesa che andrò ad affrontare e noi andiamo a concedere un contributo di minimo 2.500 euro ad un massimo di 5.000 euro per tutta questa tipologia di lavori che può essere fatto all'interno delle varie botteghe di quartiere. Le domande, aperte fino all'8 gennaio, devono essere presentate online. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune.